Buon attenzione, che tanto. Dove sta? Dove sta via? Sì, non è ovale. Noi, non è ovale. Sì, non è ovale. Oh, 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 oh! Grazie a tutti. 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 Alguien mi está contenta. Grazie a tutti. 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 e... a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sam. . a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.